Ciao a tutti, io sono Riccardo e mi sono laureato in Biotecnologie qui all'Insubria e ho scelto di iscrivermi al corso di Biomedical Sciences. Uno dei motivi per cui ho scelto questo corso è l'ampia disponibilità di tirocini che siano interni, in cui i professori sono molto disponibili ad ospitarmi nei loro laboratori, ma anche i tirocini esterni che possono spaziare da Milano a strutture anche in Svizzera.